salve ragazzi benvenuti un'altra volta sul mio canale questo è un bellissimo must della famigerata ditta quad quindi parliamo di una marca inglese che ha fatto veramente la storia della hi fi questa è la serie dei pre 44 e 405 2 però questo è il pre 44 è un bellissimo pre questa è la prima serie quindi dove iniziano a comparire i primi led e ha la regolazione di bassi e alti che tra parentesi esclude cioè questo è una regolazione che aggiungendo così ea 0 sia bassi che alti se io faccio così vado ad aumentare gli altri a diminuire i bassi se vado ancora avanti aumento a più 2 gli alti e a meno 2 i bassi quindi poi si va ad interagire sui bassi separatamente sia in positivo che sia in negativo quindi si parla che è un a parte che una vera e propria regolazione a livello di crossover a parte che gestisce le frequenze ma gestisce anche i guadagni quindi qui è 0 praticamente db qui siamo ai 150 air se qui siamo ai 300 air se c'è è una regolazione molto ma molto particolare perché queste regolazioni si vedono solo ed esclusivamente su questo pre proprio perché questo è un sistema che si usava molto per le casse elettrostatiche che faceva anche la quad quindi parliamo di un sistema quasi uno dei migliori al mondo quindi parliamo di le casse che faceva l'elettrostatica la quad le SL erano casse bellissime che hanno una timbrica spettacolare e tuttora si trovano in giro ma a costi proibitivi questo qui è un pre che riusciva a dare la giusta timbrica perché oltre ad avere i guadagni andava ad agire sulle frequenze come vi ho fatto vedere in questo caso e in questo caso lavora in maniera contemporanea con bassi e alti che non si è mai visto in nessun pre e poi ha la versione slope che è tipo un taglio di frequenza se lo lasciamo così si accende questo led significa che è stato escluso lo slope quindi il filtro qui va ai 10 kHz qui va ai 7 kHz qui va dai 5 kHz e in più c'è questa rotella che a piacimento la si può ruoteare in maniera diciamo così come è piacevole ascoltare il sound delle casse quindi ruotandolo in maniera oraria si può decidere di restare un po' più sul cupo o un po' più sul trasparente per quanto riguarda le tre categorie quindi parliamo di 10 kHz 7 kHz 5 kHz quindi parliamo di sezione medio medio alte poi c'è l'esclusione e va bene queste sono le preselezioni quindi radio, ausiliarie, disk, radio e in collegamento DIN, AUX RCA, disk RCA tape 1 e tape 2 si possono collegare in DIN allo stesso modo questa M dovrebbe servire per la registrazione cioè se si vuole andare da tape 1 che si sta ascoltando si schiaccia poi M sul 2 registra da tape 1 a tape 2 oppure viceversa tape 2 registra su tape 1 tramite quest'altro quindi questo serve per la registrazione poi abbiamo tasto di accensione che tra parentesi questo tasto di accensione comanda anche il finale il 405 o in questo caso il 405 e 2 e con questo tasto qui si dà l'alimentazione immediata al finale però la sua alimentazione si innesca dopo pochissimi secondi tramite un relè poi abbiamo il cosiddetto mono e balance quindi se si vuole ascoltare in mono o in bilanciato quindi col balance questo è uno dei primi preamplificatori o comunque sistemi tra pre finale che utilizza left e right questo è un father di regolazione quindi parliamo di questo è right e questo è left però non c'è nessunissima indicazione quindi si va un po' ad occhio queste sono le cose che io degli inglesi non ho mai capito quindi se lo si mette in mezzo è left e right insieme quindi stereo oppure left e right se è in balance se in mono si dà un mono a destra e un mono a sinistra queste erano le prime concezioni di mono e stereo o perlomeno soprattutto le prime concezioni a livello di stereo perché a livello mono sono nati tutti gli amplificatori quindi se parliamo di rogers rogers è un'altra marca che è nata ancora prima di quad utilizzava il balance non in maniera come lo conosciamo oggi ma bensì sugli amplificatori rogers e io mi sa che ne ho recensito uno che è il rogers il fanter quello è la 75 mk2 aveva la regolazione tipo col potenziometro che faceva left in mezzo left e right e oppure solamente right quindi quella regolazione lì era dovuta tramite a dei tasti laterali che dava il canale left a mono il canale right a mono quindi in quei tempi parliamo degli inizi degli anni 70 per i rogers e anche per quad il mono era visto in maniera totalmente diversa quindi si decideva come ascoltare se il mono prima veniva concepito in maniera totalmente differente da come lo conosciamo oggi perché il primo stereo effettivo è stato quello di ascoltare la musica da un canale e la voce dall'altro canale quindi da una cassa destra per esempio si ascoltava la musica dalla cassa sinistra si ascoltava la voce questo era il primo concetto di stereo poi se no i primi concetti erano quelli mono cioè che si ascoltava su tutti e due i canali si ascoltava in maniera mono quindi si andava ad ascoltare musica e voce mono su un canale musica e voce mono sull'altro canale però tenendo presente che i primi brani che sono usciti erano solo strumentali quindi erano solo tromba erano solo a livello musicale quindi i due mono i due canali mono andavano contemporaneamente oppure una cassa solamente quindi era proprio mono sui primi sistemi a stereo il mono veniva concepito con voce dalla cassa destra e musicale invece dalla cassa sinistra oppure su altri pre o amplificatori veniva gestito con due canali nettamente sul pre tipo mono destro e mono sinistro che se poi li spingevi tutti e due insieme diventava uno stereo come più o meno faceva la rogers e la fisher in questo in questo tipo di pre invece si va proprio ad analizzare la prima vera e propria parte stereofonica che è stata realizzata quindi è veramente un gioiellino è veramente un must questo questo tipo di componente innanzitutto parliamo di led e quindi per essere i primi anni 80 il led era una cosa che pochissimi se l'avevano perché se andava ancora avanti a lampadina d'incandescenza per il mono questo mono veniva gestito in maniera molto singolare cioè si sentiva o una cassa o l'altra in maniera mono oppure in stereo si sentiva una cassa stereo un'altra cassa stereo oppure in mezzo si sentiva entrambe le casse stereo su altri preamplificatori invece veniva gestito diversamente quando si spostava il father tutto sul right diventava praticamente un quinto del left cioè ascoltavi tutto il right però non escludeva totalmente il left riuscivi anche ad ascoltare il left in una piccola parte quindi un quinto del canale così facendolo spostavi in mezzo ascoltavi lo stereo quindi stereofonico e se lo spostavi sul sul left automaticamente sul left si ascoltava una parte del right e cinque parti di left quindi un quinto di di right e il restante era tutto left non so se mi sono fatto capire bene comunque quello che voglio farvi capire che questo è uno dei primi ad avere questo tipo di meccanismo per il balance per il bilanciamento dei canali quindi questo li esclude cioè se vuoi ascoltare right ascolti right se vuoi ascoltare left ascolti left metti in mezzo e ascolti in stereofonico oppure ascolti in mono come dovrebbe essere come lo concepiamo noi oggi però per i suoi anni era molto futuristico perché all'epoca nessuno li concepiva in questa maniera li concepivano sempre con quel discorso che se io metto right sento anche una parte di left nelle casse cioè sento prevalentemente la cassa di destra ma sento anche un po della cassa di sinistra questo invece non avviene su questo tipo di preamplificatore ammutolisce la cassa di sinistra e mi fa sentire la cassa solamente di destra quindi questo è uno dei primi futuristici pre passiamo comunque all'interno quindi parliamo di potenziometro a lps di qualità qui possiamo vedere tutte le manopole sono in analogico è tutto fatto in analogico con lo spostamento sulle resistenze quindi è qualcosa di impressionante proprio ci si sente proprio il tic 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 le scalanature le potete vedere vedete le scalanature qui sotto come si gira è tutto veramente fatto nella cura dei dettagli è tutto veramente creato nel massimo dell'impegno possibile immaginabile questo questo qui è il filtro slope quindi parliamo di due potenziometri uno per ogni canale poi potete vedere comunque anche come è cablato in maniera molto precisa pulita veramente molto perfetto quindi questa è la parte di regolazione del pre questi sono le preselezioni i tastini dell'accensione per ogni per ogni sorgente la preselezione vi faccio vedere adesso la parte posteriore il coperchio per l'appunto è questo qui si sgancia con due semplici vitine che sono queste qui sono una e due questa la parte posteriore che come alimentazione ci possiamo rendere conto che tranquillamente molto versatile perché va da 200 a 240 da 100 a 120 quindi copre gran parte delle alimentazioni internazionali già all'epoca negli anni nei primi anni 80 poi c'è fusibile vaschetta ii con massa integrata e queste sono tre uscite queste tre uscite vengono alimentate nel momento in cui azioniamo il tasto di accensione che è questo qui quindi si alimenta il trasformatore trasformatore da subito un uscita a questi tre che tramite un cavetto apposito che dovrei averlo qui adesso ve lo faccio vedere se riesco ad aprire la busta con una mano usate il tremolio della fotocamera però non riesco a fare tutto con una mano quindi questo è il cavetto che alimenta il finale praticamente non è nient'altro questo è proprio il suo originale che chissà quanto costerà un se si trovano poi questo è proprio il suo originale quindi questo qui lo si aggancia in questa maniera si aggancia qui e questo qui va collegato al finale che non è predisposto con accensione separata quindi quando si collega lì e la 220 il finale è già acceso non ha tasto di accensione però sul modello che vi farò vedere più avanti è stata fatta la modifica per rendere l'alimentazione separata quindi questo e quant'altro partiamo da due tipi di alimentazioni di uscita quindi questi sono i segnali di uscita uno ad alta impedenza e una bassa impedenza lo si può alimentare anche con uno spinotto uno spinotto a pin questa è la radio come vi dicevo a pin questo è il la ux anche si può gestire 500 milioni 500 k sia din che x che rca scusate è qui la stessa cosa anche per il giradischi si può si può utilizzare sia pin che rca e con la massa che è molto ben robusta il tapp 1 e tapp 2 sono solamente din e comunque sono tutti i moduli intercambiabili cioè significa che si possono sostituire tutti i moduli a piacimento questa è la cosa molto molto versatile quindi se uno vuole un altro un'altra slot per esempio deck o un'altra slot disc elimina una e mette due disc oppure elimina il disc e mette un'altra tape 15 a 3 tape oppure elimina una radio e ci mette un altro aux quindi è tutto fattibile le uscite sono sia bassa impedenza che le connessioni da pre a finale quindi queste sono le uscite del pre che vanno poi al finale se si correga se si collega in rca occhio perché queste connessioni qui sono un tantino più piccoline dei comuni rca quindi se è tutto originale e si lasciano le uscite del pre e si lasciano le vecchie connessioni al loro posto qui cioè quando si va a collegare il finale quindi si fa il ponte dal pre al finale bisogna utilizzare un cavo che sia o a serraggio oppure un cavo che gli rca debbano abbracciare bene la massa altrimenti perde la massa e perché proprio perché questi qui sono un tantino più piccolini non so se si vede lo faccio notare vedete le differenze cioè si percepisce ad occhio che questo è il comune rca è un tantino più grande del suo originale questi sono i suoi originali quindi questi sono piccolini e questi sono quelli che si usano odierna mente quelli che si trovano in giro adesso la cosa è molto interessante o comunque da tenere presente perché se il collegamento dal pre a finale non è ben serrato il finale può dare delle scariche e vi può dare anche delle tensioni o dei transienti alle casse che può far bruciare gli altoparlanti anche perché il finale non ha un controllo volume non avendo un controllo volume è alimentato automaticamente dal suo pre sia con l'alimentazione che sia con il segnale e quindi se uno di questi due da problemi come connessione rca si rischia di avere delle scariche che possono fare danni alle casse quindi qui questi vanno sostituiti sicuramente in effetti in questo caso sono stati sostituiti ed è stato fatto un bellissimo lavoro in maniera molto ma molto accurata sulle slot invece si possono anche lasciare gli originali perché anche se non fa bene contatto ma se il volume noi ce l'abbiamo basso fino a quando non riusciamo a trovare l'esatta connessione il giusto grip tra l'rca maschio e il femmina che è questo qui fino a quando non troviamo la giusta connessione il volume lo possiamo tenere abbassato di modo che poi alzando il volume ci accorgiamo se ha preso la massa o meno oppure se c'è tuttora il problema che non ha una buona connessione quindi riabbassiamo e cerchiamo di trovare la massa oppure di serrare quindi utilizzare degli rca maschio serrabili di modo che prende la massa e se la stringe proprio e così andiamo sul sicuro per quanto riguarda i din questo problema non c'è perché i din non hanno cioè sono universali quindi vanno bene così cosa dirvi ancora quindi importantissimo sostituire questi qui anche se dispiace farlo perché il pezzo originale è sempre originale io sono contrario a fare le modifiche però momenti in cui ci sono delle scariche bisogna mettere degli rca in misura standard in uscita e nel finale lo stesso lavoro in ingresso devono essere misura standard per utilizzare i comuni cavi rca che ne abbiamo in dotazione per quanto riguarda le sorgenti le si può alimentare con i pin oppure con gli rca però qui si soffre un po meno di mancanza di grip o per lo meno non c'è il rischio di fare danni se si va ad agire sul potenziometro del volume e quindi si abbassa il volume tutte le volte che si fanno delle connessioni come si fa con qualsiasi tipo di amplificatore anzi di regola si dovrebbe fare con la mancanza di alimentazione quindi con mancanza proprio di tensione le connessioni vanno fatte in mancanza di tensione per quanto riguarda la costruzione è spettacolare quindi parliamo di un pezzo di storia parliamo di un qualcosa veramente veramente fatto bene qualche graffietto qualche segno di usura c'è però c'ha 40 anni passati glielo dobbiamo concedere comunque è un ottimo gioiello ottenuto bene c'è una miriade di regolazioni micro switch per mm mc e per ogni testina abbiamo le regolazioni in uscita e in ingresso per il tape 1 e tape 2 sia per record che per play come slope è spettacolare perché questo non si può dire che ha solo un guadagno di db per quanto riguarda bassi e alti ma qui abbiamo anche un vero e proprio crossover che va ad agire sugli hertz come potete vedere e quindi ha un filtro vero e proprio per la sessione anche alta un taglio di frequenza netto in più futuristico il suo concetto di mono e stereo con il suo piccolo fader che si va così a percezione che esclude benissimo il canale che non lo si vuole sentire come ho detto prima i led sono molto futuristici comunque questa è la prima serie il valore di mercato di questo pre andiamo dai 400 anche 350 350 400 anche 500 si è corredato di scatolo cavetteria e imballaggi originali come sound è veramente una chicca è veramente spettacolare è fatto in maniera analogica quindi possiamo dire tutto ma la costruzione ai massimi livelli sia anche come progettazione di spazi proprio nella realizzazione è tutto fatto in maniera molto ma molto precisa è curato nei dettagli anche i cablaggi sono fatti in maniera molto scrupolosa è veramente un bellissimo prodotto naturalmente trovarli tutti originali oggi è veramente difficile in effetti dubito che anche questo sia totalmente originale qualcosina è stata cambiata come per l'appunto gli rca posteriori ma non mi dispiace perché visto il difetto che hanno questi questi connettori in uscita o perlomeno i problemi che potrebbero dare questi connettori in uscita sono veramente importanti da non sottovalutare quindi è meglio cambiarli e restare più felici perché il suo finale è veramente correntoso e può creare problemi se non ben connesso al pre il suo sound è prettamente inglese quindi parliamo di una grande potenza una bellissima raffinatezza questo è stato concepito per per un discorso che doveva pilotare andava in accoppiata alle casse elettrostatiche che faceva la quad e quindi siamo ai massimi livelli di progettazione e di sound se lo trovate provate ad acquistarlo però purtroppo per la coppia tra pre e finale i prezzi sono veramente altini io vi saluto se vi è piaciuta questa recensione cliccate un like iscrivetevi al mio canale per restare sempre naturalmente aggiornati dei vintage non solo questo è un altro inside che un'altra chicca che vi sto facendo vedere credo che sia una delle piccolissime recensioni o pochissime recensioni che girano sul web per quanto riguarda come viene fatto vedere un pre così da vicino nei dettagli in maniera molto ma molto scrupolosa ed appropriata quindi ragazzi io vi auguro di vedere anche gli altri miei video di commentare se avete dei dubbi di contattarmi sarò lieto di spiegarvi tutto di rispondere alle vostre domande per il momento vi lascio e faccio la recensione anche per il suo finale quad 405 2 seconda serie alla prossima e grazie